Il suo biglietto da visita era quel sorriso stampato sul viso con il quale accoglieva amici e clienti davanti al suo negozio di biciclettario, come lo stesso amava definirsi, che si trova al numero 10 di Piazza della Repubblica, quasi di fronte all'ingresso principale del castello dei Conti di Modica di Alcamo, per il quale spesso fungeva anche l'ufficio informazioni per turisti che chiedevano notizie. Quel sorriso si è spento per sempre ieri sera in una corsia dall'ospedale civico di Palermo, dove mercoledì della scorsa settimana era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Con mozione e sincero cordoglio, un vero sciocco, misto ad incredulità, stamane ad Alcamo, ha suscitato la morte di Stefano Abate, 63 anni, una vera e propria istituzione in Piazza della Repubblica, dove gestiva il negozio per la riparazione di biciclette pneumatici. Un negozio che ha quasi tre quarti di secolo di storia e che Stefano ha continuato un mestiere che come insegnante ha avuto suo padre. E spesso Stefano raccontava di personaggi e storie accadute in Piazza della Repubblica oltre mezzo secolo fa. Un piacere ascoltarlo. Un negozio con una posizione strategica perché vi transitano quotidianamente centinaio di auto e tutti conoscevano, e non solo ad Alcamo Stefano, famoso per la sua generosità, disponibilità, per la cordialità nei modi di porsi e proporsi agli altri. Quel negozio oggi è rimasto con le porte giuse e è accaduto ranamente. Quel negozio di Stefano Ubblici Grettaro era anche il punto di incontro tra amici. Si discuteva di tutto, spesso però la prima pagina era occupata dal ciclismo. Stefano sapeva tutto, da Girardengo, Bartale Coppi, dai no ad Argentin, da Marquis a Gemondi e oggi da Fruma a Nibali. Ma sono stati molteplici i suoi interessi con al primo posto la famiglia. L'ha scoperta due mesi fa di una brutta malattia, un lungo intervento chirurgico al civico di Palermo. Da ieri era tornato in corsia dopo la terapia intensiva. Ieri sera improvvisa complicazione e quindi il decesso che ha fatto precipitare nell'abisso del dolore quanti lo conoscevano e hanno avuto la fortuna di apprezzarne le sue tantissime qualità.